un riprende quarta quarta se ti fermi non ce la fai più infatti dopo mi si è spenta e si devi devi lanciarla perché sennò si spengono si spengono motorosa ho voluto provare in quarta ma non va e che se esci dalla stradina si è fattuto quando sono uscito due volte finché sono tratto in tre corsa poi in terza tranquillo io ho voluto provare quella quarta però l'ho fatta spegnere almeno che venissero lanciato un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti.